Sono Luigi Giuliani, docente di letteratura spagnola del corso di laurea in lingue. Il corso di studi in lingue e cultura straniere è un corso di durata triennale. La nostra offerta formativa comprende 7 lingue e 7 letterature, inglese, spagnolo, francese, cinese, tedesco, russo e portoghese. Non c'è il numero chiuso, ma per accedere al corso bisogna passare un test di italiano e per coloro che sceglieranno di studiare inglese, un test linguistico idoneativo di livello B1, a meno che non ammiate già una certificazione linguistica internazionale di livello B1 o superiore. Lo studente potrà scegliere di seguire il percorso formativo completo in due lingue e letterature, a cui ne può aggiungere una terza da seguire per un numero minore di crediti. L'insegnamento si articola in due momenti differenziati per luoghi e tempo. I primi due giorni della settimana, il lunedì e il martedì, lo studente frequentano le lezioni di lingua presso il Centro Linguistico d'Ateneo, una delle più grandi strutture universitari italiane di questo tipo, dotato di moderni laboratori linguistici, dove l'insegnamento è a carico dei collaboratori esperti linguistici. I restanti giorni della settimana, dal mercoledì al venerdì, hanno luogo presso il Dipartimento le lezioni di letteratura e quelle di lingua, intese come studio teorico e riflessione linguistica. La frequenza è altamente consigliata, ma non obbligatoria. Ovviamente, il nostro studente ideale è non soltanto portato per le lingue, ma ha anche molti interessi culturali e una spiccata curiosità verso le altre culture, e ciò è ben predisposto ad adottare nuovi punti di vista, nuove prospettive, a saper afferrare la complessità del mondo in cui viviamo. Perché imparare una nuova lingua vuol dire anche acquisire delle competenze culturali senza le quali è impossibile lavorare come traduttori, come mediatori linguistici o come ricercatori. È per questo che lo studio di una lingua straniera, per noi, è inseparabile da quello della sua letteratura e dunque della cultura di un paese. I nostri studenti dunque sono costruttori di ponti, sanno vedere al di là dei muri, sono disposti a viaggiare perché sanno che la realtà di un numero sempre maggiore di persone è quella di vivere e lavorare a cavallo fra due o più culture. Quando si parla degli sbocchi professionali per i laureati in lingue, si pensa di solito alla traduzione e all'insegnamento. Entrambi sono settori importanti, ma non sono certamente gli unici. C'è tutto il mondo dell'industria culturale ad attendervi, un orizzonte che comprende non solo scuole o agenzie di traduzione, ma anche case editrici, giornali, riviste sia cartacei che digitali, i media, enti culturali pubblici e privati, il settore del turismo, dei servizi o alle associazioni che operano nel campo dei rapporti interculturali e dell'integrazione sociale, oltre alle imprese che svolgono un'attività di tipo commerciale. C'è poi il mondo della ricerca nel campo degli studi umanistici, un ambito in cui la prospettiva comparatistica sta diventando sempre più necessaria. Tra gli effetti della globalizzazione c'è quello di rendere visibili all'indebolimento della dimensione esclusivamente nazionale dell'industria culturale. È sufficiente osservare gli scaffali di una libreria, un palisesto televisivo o i contenuti dei circuiti informativi dei media per rendersene conto. E i nostri studenti sanno farsi valere, in Italia e all'estero, in ogni ambito professionale, grazie alle loro abilità linguistiche e alla loro solida preparazione culturale. Chi ha studiato lingue è insomma avvantaggiato anche nel mondo del lavoro rispetto a chi di lingue e culture conosce solo la propria. Anzitutto è consigliabile completare gli studi. La nostra laurea magistrale in letterature comparate e traduzione interculturale prevede un percorso unico il primo anno e un secondo anno in cui si può scegliere fra un curriculum in letteratura e uno in lingua. L'inserimento nel mondo del lavoro passa poi per diversi percorsi, a seconda delle strade intraprese. Ci sono ovviamente i concorsi per chi vuole lavorare nei miei tipubblici, scuola compresa, e c'è il dottorato per chi vuole lavorare nelle università e nei centri di ricerca in Italia e all'estero. Altrimenti ci si può rivolgere direttamente alle numerose imprese che cercano personale che abbia abilità relazionali in lingue diverse. Per gli studenti di lingue il soggiorno all'estero è di fondamentale importanza. Nel quadro del programma Erasmus è possibile studiare uno o due semestri in altre università europee, ma abbiamo anche accordi quadro con paesi extraeuropei come il Brasile, l'Argentina e la Cina. Lungo l'anno vengono organizzati numerosi convegni o workshop su temi culturali, letterari e linguistici. Come esempio possiamo citare linguisti colloquia, incontri bisettimanali di linguistica che si tengono in varie lingue, o i taglieres internazionales de estudio textuales, seminari annuali su questioni di materialità del testo, tenuti in spagnolo, o le attività organizzate dal Center for European Modernism Studies, un centro studi che si occupa della letteratura europea del primo novecento. Inoltre, presso il Centro Linguistico d'Ateneo, abbiamo attivato dei laboratori di traduzione in varie lingue. Abbiamo una lunga lista di enti pubblici e privati presso i quali si può svolgere il tirocinio previsto, associazioni culturali, case editrici, scuole, licei, librerie e biblioteche, alberghi, musei, accademie. Stiamo anche lavorando per avviare la collaborazione con associazioni di volontariato che operano nel campo dell'integrazione dei migranti. Perché Perugia, oltre a essere una città ricchissima dal punto di vista artistico, è da sette secoli una città a forte vocazione universitaria. Lo studio perugino risale al 1307 con una grande tradizione studentesca, un'importante dimensione internazionale, un'intensa vita culturale. Tutto ciò contribuisce a creare l'ambiente ideale per chi vuole dedicarsi agli studi umanistici. Perché l'Università di Perugia ha numeri importanti ma non è massificata. Nei nostri corsi di triennale magistrale è facile stabilire un rapporto diretto con i docenti, essere seguiti da vicino perché nelle scienze umane la trasmissione dei saperi è anche una questione di sensibilità, di contatto personale. E in classi di dimensioni medie o piccole è possibile impostare la didattica su basi seminariali, favorendo un apprendimento che implichi un lavoro diretto su testi e materiali. Perché il corso di laurea in lingue e cultura straniere e la laurea magistrale in letterature comparate e traduzione interculturale sono corsi ben strutturati, con docenti di grande esperienza, ben inseriti nelle reti internazionali della ricerca, fra i quali vi sono ogni anno visiting professor di prestigiose università straniere. Perché se volete assimilare altre lingue e culture, se volete capire cos'è e come funziona una lingua, o se amate Shakespeare o Jane Austen, García Lorca o Javier Cercas, Ronsard o Camus, Camus e Sopessoa, Goethe o Guntergrás, Dostoyevsky o Solzhenitsyn, Yahua o Bob Dylan, Perugia è il posto che fa per voi. Mis colegas e io os esperamos in settembre para empezar a lavorare juntos. Qui vieni. Hi, I'm Jody Sanford. I'm a Research Professor in English Linguistics and Translation here at the University of Perugia. We look forward to seeing you here next year. Mein Name ist Emmanuela Maibes und ich unterrichte deutsche Sprache an der Universität Perugia. Meine Kollegen und ich vom Fachbereich Deutsch erwarten euch fürs nächste Studienjahr hier bei uns in Perugia. Tschüss! Bonjour à toutes et à tous. Je suis Natascha Ranski et je vous attend à Perugia pour les cours de langue française. Vous serez les bienvenus. A bientôt, j'espère. Au revoir. Buongiorno, дорогие друзья. Надеюсь, что увижу вас в следующем году на наших курсах. Udachi всем и до скорой встречи. Buongiorno a tutti. Una saldação calorosa a todos os alunos que estão pensabli e studar lingua estrangeira in Santa Perugia. Eu chamo Paola Limam e assimil lingua portuguesa e brasileira. Estamos a vossa espera numerosa para prossimo ano. Vaniu estuda conosco. Bonjour. Nous voulons vous venir à Perugia大学 pour apprendre le français. Au revoir. Bonjour. Je suis Federico Rinaldo, studente escritor au 3e année du cours de langue et culture stranière. C'est sûr à ceux qui ont apporté au studio des langues, mais aussi à ceux qui ont apporté par les littératures et culturees stranières. Oltre alla parte inerente allo studio delle lingue, venne una incentrata sulla letteratura, una piccola parte storica e, per finire, una sull'italianistica, dove si intendono materie come linguistica o letteratura italiana. Il nostro corso offre lo studio di due lingue e relative letterature fra sette possibili scelte inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese e portoghese. Lo studio di queste lingue viene diviso in lezioni in dipartimento e lezioni al CLAS, ovvero il centro linguistico d'Ateneo. Per la comprensione dei corsi riguardanti la letteratura, l'italianistica e la parte storica non ci sono grossi prerequisiti. Infatti, vi basteranno le competenze che vi dà la scuola. Mentre, è tutt'altro discorso per quanto riguarda lo studio delle lingue. Infatti, le lezioni di spagnolo e francese partiranno dal livello A2, mentre tutte le altre lingue partiranno dal livello più basso, cioè A1, ad eccezione di inglese. Infatti, per quanto riguarda inglese, dovrete fare un test di difficoltà comparabile a Blumby 1. il non soperamento di questo test non escluderà la vostra iscrizione al corso in quanto è ad accesso libero. Però non vi permetterà di scegliere inglese come prima o seconda lingua e di conseguenza letteratura inglese come prima o seconda letteratura. Questo e un test sulle basi della comprensione della lingua italiana sono gli unici test d'ingresso, se vogliamo, che affronterete. Il non soperamento di questo test d'italiano porterà a dover frequentare un corso aggiuntivo nel primo anno per recuperare le lacune che si concluderà con un test finale. Il corso non è estremamente difficile, soprattutto se si sfrutta bene il tempo che si ha a disposizione. Le lezioni non sono obbligatorie, ma frequentarle diminuirà notevolmente la difficoltà di comprensione dell'argomento e farà la differenza durante l'esame. Quindi le consiglio sempre, soprattutto le lezioni di lingua al club. inoltre avrete la possibilità di stringere un ottimo rapporto con i docenti e con i compagni di corso. Allora, dipende da corsa a corso e da periodo a periodo. Però ritengo che la soluzione migliore sia quella di studiare poco al giorno ma spesso. Cosa vuol dire? Per esempio, sistemare gli appunti presi a lezioni il giorno prima è un ottimo metodo per ripassare in breve tempo. se invece vogliamo parlare di ore di studio allora ritengo che due o tre orette ogni due giorni sia ideale per arrivare alla sessione d'esame organizzati e preparati. Poi, ovviamente, in sessione d'esame i tempi cambiano e bisogna studiare di più. Però, anche qui, studiare sempre ma poco rende tutto più semplice. La vita universitaria è decisamente diversa da quella liceale. Si ha molta più libertà e controllo sulla propria vita e sui propri ritmi. La visione dello studio ma anche del luogo di studio stesso è completamente stravolta. Vi sono benefici non solo in ambito delle conoscenze o competenze apprese o nell'avvicinamento al mondo del lavoro ma anche in come ci si rapporta con le persone che ogni giorno vivono le tue stesse esperienze. Sto parlando ovviamente dei compagni di corso ma anche con i docenti è possibile stringere ottimi rapporti in quanto disponibili e propensi al dialogo. D'altro canto, però, insieme alle libertà viene la consapevolezza dei propri limiti. Infatti, per far spazio a sessioni di studio, tirocini o eventi del dipartimento semplicemente si potrebbe essere costretti a fare a meno di attività esterne. Nel mio caso, per esempio, mi sono reso conto che non riuscivo a gestire la mia carriera universitaria e quella sportiva contemporaneamente in modo adeguato e per questo ho dovuto fare un passo indietro. Allora, il corso qui a Perugia è ottimo perché può vantare di molti docenti validi. Detto questo, per quanto riguarda la triennale non vi sono grosse differenze didattiche fra atenei. Purtroppo, a meno che non sia una chiara passione già dal liceo, lo si scopre solo a corso iniziato. Posso però suggerire di regolarsi prendendo come linea guida le materie di lingua e letteratura e quindi l'interesse e il risultato di questi esami. Ci teniamo a ricordare che questo video è stato realizzato durante l'emergenza Covid-19. Nonostante ciò, reputando fondamentale il servizio di orientamento dell'Università degli Studi di Perugia, abbiamo deciso di offrirlo in modalità telematica. Per altri approfondimenti potete accedere al sito web Unipg dove troverete tante altre informazioni e video. Ciao e a presto! Grazie a tutti!